eccomi qua ragazzi oggi volevo farvi vedere un piccolo problemino che ho col computer allora vi faccio vedere cosa si tratta allora tutto regolare in terma software tutto regolare il problema è nella fase hardware audio vi faccio vedere qua abbiamo l'amplificatore alziamo il volume sentite questo rumore questo è quello che esce dalle casse senza fare in mente questo è quello che si sente in uscita delle casse lo faccio sentire bene spostiamo un microfono ecco qua ci medi come sentite vi alzo anche la sensibilità sentite questo è quello che si sente in uscita delle casse e non sta andando audio e non c'è player questo è proprio il suono del computer che esce dalle casse adesso vi faccio sentire anche il computer mentre fa un un determinato lavoro come sentite andiamo al lavoro questo è quello che esce dalle casse del computer avete sentito quanto rumore se sapete come risolvere questo problema che ho con le casse del computer fatemelo sapere con un commento e ci vediamo alla prossima